Ciao a tutti, questa è una puntata speciale, una puntata che riprima con poco tutte le attività che abbiamo messo in campo in questi 12 mesi, quindi non si tratta di un Agri Week Recap ma piuttosto di un Agri Year Recap e quindi ripercorriamo insieme questi 12 mesi intensi al servizio dell'agricoltura della nostra regione. Vai Gennaro! La settimana è iniziata con l'incontro con il Presidente De Luca, è stato un briefing anche abbastanza lungo nel quale abbiamo discusso di tutte le tematiche relative all'agricoltura, delle opportunità, dei punti di forza, debolezza, dei problemi che dobbiamo affrontare. In questa settimana abbiamo anche ripreso gli Agri Tour con il primo Agri Tour del 2023. Iniziamo con una buona notizia, la good news, la pubblicazione del bando sulla misura 22 del PSR, una misura che abbiamo voluto con forza per aiutare le imprese agricole di questa regione. Abbiamo lanciato, io ho lanciato il Sassolino nello Stagno, quella della definizione di una doc campania per i vini e per gli sfumanti di questa regione. Settimana intensa, una settimana nella quale ho avuto anche il tempo e la possibilità di andare a Berlino, sebbene per poche ore, ma ho voluto incontrare tutti gli operatori del settore dell'ortofrutto, ho partecipato a diverse tavole rotonde, tutte che enfatizzavano un po' con la forza di questo nostro comparto. La settimana è iniziata con l'incontro con il Presidente De Lugo, il consueto briefing periodico nel quale abbiamo parlato quasi esclusivamente di AJAC, dell'organismo pagatore della regione campania. Abbiamo finalmente messo una pietra tombale sulla vicenda del PIG del 2017, sono partite le prime PEC, circa 500 PEC. Questa è la centesima puntata di questa rubrica che abbiamo voluto con forza per comunicarvi le tante cose che facciamo in agricoltura in questa regione. Come vedete mi trovo in Giappone, a Tokyo, al Foodaxi Japan, una delle fiere più importanti al mondo del sistema agroalimentare. Ma voglio partire dalla good news, la vera good news di questa settimana è il riconoscimento dell'indicazione geografica protetta all'olio campano, una grande notizia per un settore in grande espansione. E poi abbiamo parlato anche della nuova struttura dei Galli che abbiamo individuato con il supporto dell'Università Federico II. Il principio sul quale ci siamo basati è che nessun comune deve restare indietro e che tutti i comuni delle aree C e D devono essere considerati all'interno dei Galli. Mi trovo a Verona, al Vinitaly, dove abbiamo registrato come regione campania uno straordinario successo grazie alla qualità messa in campo dei nostri produttori di vinicoli che sono circa 250. Settimana intensa nella quale ho avuto anche il tempo di andare poche ore all'onda per accompagnare la missione di imprenditori italiani nella hall bellissima di Westminster dove c'è stato davvero un grande successo per le aziende campane. Sono qui a Mondragone perché abbiamo partecipato all'iniziativa organizzata dalle associazioni di categoria sul progetto pesca. Abbiamo parlato del futuro della pesca, del futuro della pesca di queste aree. Un week recap all'insegna degli azzurri, campioni d'Italia. Finalmente siamo riusciti a vincere questo scudetto e la città è davvero azzurra. Io ho vissuto già anche gli altri due scudetti ma questa volta è davvero la festa della città, non solo dei tifosi del Napoli. In ufficio ci siamo riuniti più volte per affrontare il tema della rimodulazione dei residui della programmazione 14-20-22. Sono stato peraltro a Bruxelles due giorni intensi, ho fatto due interventi in plenaria al comitato delle regioni e ho avuto modo di rappresentare l'importanza della gestione del risk, il cosiddetto risk management. Si è tenuto il tavolo frorovivaistico, abbiamo discusso della promozione per il settore, la partecipazione alle varie fiere per questo settore che è uno dei settori più in forza della nostra regione nonostante le tante complessità dei tempi che viviamo. Mi trovo in un posto fantastico al confine tra la costiera amalfitana e quella sorrentina, praticamente in paradiso. Sono ad Agerola, al campus Principe di Napoli, dove abbiamo ospitato per la prima volta in Italia il concorso mondiale dei vini frizzanti e spumanti. Ci sono stati oltre 50 degustatori provenienti da ogni parte del mondo. Ci sono stati vari riunioni sulle procedure che dobbiamo mettere in campo per la definizione immediata dei danni che questo maltempo sta generando, un cambiamento climatico che sta determinando anche una necessità di allargamento della struttura amministrativa. C'è stata la bella iniziativa organizzata da Autism Aid con Paolo Vassallo a Napoli, ho avuto modo davvero di verificare i grandi progressi che si stanno facendo in quelle aziende agricole. Ho discusso con gli uffici della pesca, di questo assessorato, tutto il nuovo piano di programmazione del FEAMPA che dovrebbe partire al più tardi, subito dopo l'estate. Abbiamo tenuto un tavolo importante sulla forestazione, abbiamo parlato di semplificazione, anche della necessità di una nuova legge per semplificare le attività. Ci sono stati tanti altri tavoli, il tavolo sulla Bactrocera Torsalis con le amministrazioni, con gli stakeholders, abbiamo rappresentato l'importanza della giusta informazione, abbiamo anche evidenziato all'associazione di comunicare adeguatamente alle imprese di mettersi in sicurezza rispetto all'attacco di questo insetto malefico. Abbiamo discusso di blockchain con il gruppo di lavoro, con il collega Casucci, stiamo individuando un percorso che ci porti davvero ad essere all'avanguardia. In giunta regionale, diverse delibre che hanno riguardato il mio assessorato, innanzitutto abbiamo affidato le UOD specifiche ai quattro nuovi dirigenti che saluto, a cui auguro un grande in bocca al lupo, è un gran buon lavoro. Tra le attività delante della settimana c'è stato l'incontro con i rappresentanti dei galle della regione, abbiamo discusso del bando che abbiamo appena emanato. Stanno per partire due bandi molto importanti, anzi tre, uno che riguarda i frantoi, l'altro che riguarda la 422 con delle piccole modifiche e l'altro che riguarda invece l'ammodernamento dei macchinari. Una settimana molto intensa che è iniziata con la CPA, con la Commissione Politica Agricole della Conferenza delle Regioni che abbiamo tenuto in Campania, c'erano tutti gli assessori dell'agricoltura, ci ha raggiunto il ministro Lollobrigida, abbiamo discusso dei temi cruciali dell'agricoltura del nostro paese. Questa settimana è iniziata in Campania, è iniziata a Sorrento con la raccolta delle olive, la prima raccolta di quest'annata che segna anche lo start per la IGP Campania per l'oleo, quindi un grande risultato. Ma in questa settimana ho fatto anche più di 2.000 km, sono stato praticamente in tutte le province della nostra regione. Il saluto particolare di quest'oggi lo voglio fare proprio ai 26 amministratori che sono stati a Bruxelles, persone davvero speciali che hanno davvero riempito d'orgoglio me e i nostri uffici regionali per l'intensità, la voglia che hanno immesso in questa partecipazione al corso di Bruxelles. Una settimana questa che è contrassegnata soprattutto dal successo che abbiamo riscontrato a Bruxelles, sono stato relatore, il dossiero al Comitato delle Regioni sul Risk Management, sulla gestione del rischio e la Commissione Natt ha definitivamente approvato il parere. Come vedete mi trovo in un posto fantastico, nel Castello di Rocca Cilento, qui abbiamo fatto la conferenza stampa di lancio di Oli Vitali Med, una iniziativa che tende a posizionare adeguatamente l'olio extravergine campano IGP. Abbiamo anche approvato in giunta regionale la composizione dei nuovi ATC nel settore della caccia, sia per quanto riguarda la provincia di Caserta, la provincia di Avellino, la provincia di Salerno. Inizia con una buona notizia, con una good news. Abbiamo obbligato bandi per circa 35 milioni di Euro, 16 milioni e mezzo per gli allevamenti bufalini, 6 milioni e mezzo per il settore ambientale per quanto riguarda i reflui zootecnici e 12 milioni per il settore agroalimentare per favorire un po' la trasformazione nella nostra regione. E sempre per il settore forestale abbiamo ottenuto diverse riunioni, tutte orientate alla definizione del progetto del gemello digitale della nostra foresta regionale. La settimana inizia qui a Merano, dove sono per il Merano Wine Festival, grande successo per le aziende campane, ben 52 aziende presenti, 27 del settore agroalimentare, il resto produttori di vino, ben 4 aziende hanno avuto il massimo riconoscimento platinum. In questa settimana sono state pubblicate finalmente le gradatorie per la misura 611 giovani, sono state pubblicate anche le gradatorie definitiva per quanto riguarda il settore agrituristico, quindi si chiudono alcuni percorsi. Poi c'è stato il tavolo sui percorsi enogastronomici e turistici che abbiamo tenuto insieme all'assessorato al turismo, stiamo definendo le ultime schede, nelle prossime settimane avvieremo anche il confronto con le strade del vino e dei sapori. Sono stata ad Atena Lucano dove, immeritatamente, ho avuto anche il riconoscimento di un premio per la comunicazione istituzionale, una comunicazione che sto cercando di fare sempre in maniera più proattiva per essere sempre più vicini agli agricoltori e ai cittadini della nostra regione. Come vedete mi trovo qui al villaggio Coldiretti di Napoli, una gran bella festa dell'agricoltura, tantissimi piccoli produttori, ma anche produttori di altissima qualità, ci sono stati tanti tavoli tematici. per la prima volta, dopo decenni, quasi la totalità delle comunità montane ha anche erogato tutte le mensilità arretrate ai propri operatori. La settimana è iniziata con una bella notizia, la bella notizia sono le congratulazioni che la Commissione Europea ha fatto al PSR della nostra regione per gli obiettivi che stiamo raggiungendo. Beh, davvero tantissime attività, 12 mesi intensissimi, forse nemmeno un giorno di pausa, sempre proiettati a fare di più e meglio per l'agricoltura della nostra regione e per questo devo ringraziare il mio staff e l'intera struttura dell'assessorato all'agricoltura. È stato un anno fantastico per l'agricoltura campana, tanti risultati raggiunti, altri li dobbiamo raggiungere nei prossimi mesi e per questo siamo già qui a lavorare per il prossimo anno. L'agricoltura è al centro dell'agenda politica della nostra regione e ringrazio sempre il Presidente De Luca per avermi dato la possibilità di essere a contatto stretto con gli operatori vivacissimi della nostra regione. Abbiamo una grande regione agricola, dobbiamo tutti quanti convincerci che lo siamo davvero. Con questo auspicio io auguro a voi e alle vostre famiglie un fantastico 2024, trascorrete queste ore intense in famiglia con i vostri cari, ma mi raccomando mangiate e bevete campano. Buon anno a tutti!